un'altra notizia che riguarda i motociclisti perché dai anche i motociclisti alla fine sono turismo slow ma me che ha tanto a parte quelli che sfrecciano a 250 euro in autostrada dai vabbè la mia moto per esempio è slow per forza fai 60 al massimo abbiamo fatto tutta l'italia io dietro nel sellino dietro un astore io dietro nel sellino dietro davanti non sembra capace è pesantissima sulla ruota praticamente moto gussi 500 è da lì che mi si è proprio un po' incricciata la schiena con lei siamo anche caduti siamo anche caduti allora itinerari in moto progetto roar bello roar il veneto è sostenuto da diverse realtà locali offre tante segnalazioni organizzate e lungo appunto i percorsi veneti uscite lungo le vie più suggestive di questa regione si può fare ad esempio il tour delle dolomiti poi ci sono i percorsi pedemontani gli itinerari alternativi sul garda insomma molti spunti gite organizzate gite di diversa durata che permettono di scoprire gli scorci meno battuti del territorio veneto e al tempo stesso di apprezzare l'arte l'artigianato ovviamente la gastronomia speriamo che quelli che fanno apprezzino l'arte l'artigianato ma certo che apprezzano va bene e se poi nel giù dalla moto volete continuare ad esplorare la regione vi segnaliamo per esempio il parco delle cascate di Molina si trova in provincia di Verona ed è ideale per escursioni tra bosche grotte e cascate d'acqua sorgiva la particolarità di questo territorio infatti è la ricchezza d'acqua e grazie all'esistenza di sorgenti perenni a nord del paese di Molina e lì scendete dalla moto per favore vi sgranchite un po' le gambe vi levate tutta quella roba di pelle lì e andate a farvi un giro a vedere le cascate a sentire l'olore dell'acqua se avete ancora il gusto per l'udito fine ma certo date in moto bello grazie a tutti